Non aveva accettato la fine della loro relazione e da quel momento in poi per una donna ragusana di 45 anni erano iniziate le minacce e le persecuzioni da parte del suo ex convivente. E' stato infatti arrestato con l'accusa di stalking Salvatore Cafiso, commerciante ragusano di 46 anni, separato. E' stata la denuncia della vittima a porre fine a un lungo periodo di pedinamenti e telefonate iniziate nell'ottobre del 2010. Per la donna era ormai diventato impossibile svolgere le normali faccente quotidiane e recarsi anche al lavoro. La vittima veniva pedinata nei suoi spostamenti, era oggetto di telefonate e sms minatori. Una situazione insostenibile dove non mancavano anche gli appostamenti sotto case, fuori dal lavoro, che hanno spinto la donna a rivolgersi ai carabinieri, sporgendo anche la denuncia. I militari, dopo accurate indagini, hanno appurato la pericolosità dell'uomo e la gravità dei fatti. Numerosi gli elementi raccolti a suo carico che hanno consentito agli inquirenti di proseguire all'arresto di Cafiso, perché responsabile di atti persecutori. Il 46enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.